Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato al gameplay di Dark Souls 3. Come state? Spero stiate tutti bene, io sto bene, un po' raffreddata ma sto bene. Come sempre vi ringrazio per tutti i likes, i commentini, per tutto il sostegno che in un modo o nell'altro vi dimostrate. Come sempre vi ricordo che io sono quasi tutti i giorni in live su Twitch dopo le 23, alterno sia Just Chatting, quindi un po' di chiacchiere tranquille, sia il gaming e vi informo anche di un cambio programma, cioè in realtà non è che era proprio un cambio programma, però ci tenevo a ricordarvi che i video su Dark Souls usciranno sempre il lunedì e il venerdì finché non finiamo il gameplay alle ore 13, mentre quello di Alice uscirà il mercoledì una volta ogni due settimane, sarà un episodio un pochino più lungo rispetto a quelli di Dark Souls, però perché nel frattempo voglio comunque che nel momento in cui finiamo Dark Souls 3 abbiamo già avviato un altro gameplay, che magari nel tempo o sposterò a lunedì e venerdì Alice e inizio, che ne so, Dark Souls, la remastered, una volta ogni due settimane, o facciamo il contrario, non lo so ancora, però se avete dei suggerimenti i vostri consigli sono ben accetti, ricordatevelo. Detto questo direi di cominciare. Ok, allora, noi l'ultima volta abbiamo sconfitto il viscido Aldrich e ci siamo ritrovati all'interno della chiesa all'insediamento dei non morti. Questa chiesa... aspetta, torre della prigione? No. Vediamo se... eh, ok, da qui possiamo arrivarci benissimo. Siamo stati catapultati all'interno della cattedrale dove abbiamo trovato l'ancella che ci ha donato appunto il patto della via blu e la bandiera per proseguire, ve lo ricordate, dopo Vort. Ecco, quindi non all'insediamento dei non morti, ma qui di fronte proprio al punto in cui abbiamo sconfitto Vort. Ora, dato che so cosa ci aspetta, perché lo so, siamo già in braccio, ok, perché lo so. Io direi di fare una bella cosa. Ma qua non c'era un segno di evocazione. Peppa maledetta. Forse no. Ma sono flashato, vabbè. Direi di proseguire, quindi... Ecco, come dire, fanno fuori questi. Ok. Fuori uno. Non ci lascia un drop? No. No, ma noi... Speriamo sempre che ci droppino qualcosa. Allora, io l'ho convinta ci fosse un segno di evocazione qui. E ora che invece scopro che non c'è... Ci sto rimanendo malissimo. Ma veramente tanto male. Vabbè, entriamo. Ecco la lancella, vedete? Non posso mettere... Posso posare da qualche parte il catino che ci aveva dato, o non ce l'ha dato, mi sa che non ce l'ha ancora dato. Perché vedete che là c'è una scala e lì si prosegue per andare da Lothric. E io so già cosa spunterà dall'assù. Non c'è modo per... No, non va niente. Tanto morirei comunque. Ok. Ah, il catino votivo ce l'ha dato adesso. Vabbè, io continuavo... A inferire, poverina. Puraccia. A inferire così. Eh, guardate raga. Sta boss fight è al pari di Aldrich. Aiutatemi. Poi, magari no, eh. Magari scoprò il trucchetto anche qui. Proviamo a colpirla in testa. La testa sicuramente... Eh, me la sogno stanno ottimo. Eccola. Eh sì, è un po' come Vort. È stata evocata dalla Valle Boreale. Quindi la Valle Boreale... Ha protetto Lothric. Tutto sto casino per... Per un tizio che neanche cammina. Bisogna stare attenti. E ha questa mossa soprattutto. Questa mossa è proprio da infame. Però vedo che non le fa granché, eh. Mi sa... Ah, che lei era... Tipo all'oscurità. Era debole all'oscurità. Il fuoco non le fa granché, eh. Via via. Eccola la seconda fase. Eh sì, eh. Facciamoci... Chiaramente prendere da... Da sto... Pezzo di... Ma sì, c'ho affettato. Allora... Allora... Che bello. È tutto fantastico. È tutto fantastico. È un gioco bellissimo. È un gioco bellissimo. Vabbè. Io... Direi che possiamo... Andare da Lothric. Cioè... No, da Lothric. Scusatemi. Tornare dove abbiamo... Abbiamo sconfitto... Sì, trovato sconfitto Aldrich. Perché comunque ci siamo stati catapultati così, senza neanche... Capito? Vedere effettivamente cosa c'è lì ad Anor Londo. Perché comunque la cattedrale, se non mi sbaglio, ha anche una... Un piano di sopra, vedi, sì, me lo ricordavo, questa scensura qua. E sicuramente qua sopra c'è qualcosa. No. Porca vacca. Di sicuro c'è qualcosa. Qua c'era una finestra rotta, comunque. Anzi, lassù. C'era la finestra rotta. Non c'è niente. Eh, no. Infatti mi ricordavo che qui c'era... Gwynevere. Ecco. Anello della principessa del sole. Allora, leggiamo un po'. Eccolo. Ripristina gradualmente Pivium. È un ottimo anello. Anello di Gwynevere, principessa del sole, figlia maggiore di Gwyn, il primo signore. Questo anello emana un teppore come di luce solare, ripristina gradualmente i Piv. Gwynevere abbandonò la propria casa insieme ad altre divinità e divenne moglie e madre di molti figli di natura divina. Ok. Boh. È un ottimo anello questo. Le porte chiuse. Anche di qua porte chiuse, immagino. Beh sì. Ok. Dobbiamo per forza sconfiggere la danzatrice. Per forza. Che schifo comunque questa Melva. È Melva. No, ma io raga non riesco a parlare. Non la Melva, la Melva. Ok. Che? Che? Cos? Sono stata io? No, va bene, ma. Ma è stupendo tutto ciò. Strano che non crolli tutto, però, eh. È così... Fottutamente friabile che regala emozioni. Quindi dobbiamo tornare a Danor Londo un attimo perché farmiamo un po' e infondiamo un'arma oscura. Però, ecco... Abbiamo bisogno di farmare perché non abbiamo anime. Ok. Dai, dai. Fatti sotto. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. È stata una massa zerdata, a dir poco. Via, 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 via. Ok. Dai, viene. Però l'arma fulmine fa malissimo, eh. Fa veramente malissimo. No. Non. no, no, no... No Morta Completamente Fatta fuori I due colpi Ottimo Almeno le ho qui Ok Meno male che Non mi ha fatto fuori anche ora Allora andiamo All'altare del vincolo Vediamo cosa possiamo portare avanti E cosa hanno Al massimo posso pensare a comprare L'infusione però Un po' scomodo Al massimo ce la facciamo andare bene Prima di fare questo però Prima di fare questo Vorrei assolutamente Tornare Nel quartiere dell'abisso Perché forse forse Se non l'abbiamo già fatto Io non mi ricordo Perché ho talmente tante run in corso Che non riesco a ricordarmi Dove ho fatto cosa Quindi vediamo Dovrebbe esserci Una personcina Ad aspettarci No allora l'abbiamo già fatto Mi sa di sì Mi sa di sì Ok Vabbè Niente Non mi ricordo un cavolo io Comunque qui c'è un tempo Uccioso Nuvoloso Piovoso Veramente ottimo Cioè ottimo per me A me piace un sacco Vediamo un po' Allora anzitutto io Comprerei una spada Se la vende Avende anche le infusiboli Però non 27 sono un po' too much Ma una decina Ne possiamo anche Sì Comprare Poi 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 Proviamo così Questa è già infusa 192 più 95 Non male Non male davvero È una spadone 5 Davvero Ok Metto anche l'infusione Di fulmine Non posso usarla Non posso usarla Davvero Ma sono già qua No forse perché È un'arma speciale Ed è già infusa Se non mi sbaglio Ma è già infusa Vero No non è infusa Eh no Non posso utilizzarla Io Sciocco Basita Allora Non posso utilizzarla Ok Lo accetto D'indestrezza Ah ok Vabbè Rispetto a questa Arma qua Che ho Che ho Questa Nemmeno Ma perché Non sono armi Normali Raga E a questa cosa Mi dà troppo Fastidio Questa L'espadone Delle esule Dai Almeno questa Me la fa infondere Sì Ok Però 61 Vabbè Non male Direi che Possiamo Interci questo Della Gloranzia Allora 1 2 3 Vabbè No ci sta Dai Ci sta Ci sta Alt Possibile Che non c'è L'evocazione Diciamo sta cosa Abbandona partita Sì Perché A volte Succede Proviamo Ma non credo Io mi ricordavo Lo spadaccino Però è vero Lo spadaccino C'era all'inizio Con Vort Quindi Non può Esserci Ancora Eh Infatti Mi ricordavo Male Non c'è Niente Devo fare la danzatrice Da sola È una di quelle cose Che detesto Più in assoluto Bene Vai Vai Così Oh cavolo No dai Ti prego No Non ora Cioè Io stavo Vabbè Meno male che Non mi fa Morire No Non faccio poco E nulla Comunque Sono morta No Per un pelo No No È troppo Troppo Pesante Pesante Porca latta Va bene, sono morta Via Vabbè, io ho perso la pezza Sono scimmunita completamente Sì, sono completamente basse Bene No, qui sta Sta andando malissimo No, ancora prende le spade Bene Via Via Morta, morta, sono morta, sono morta No, quest'arma non è proprio adatta Morta, morta, ma lo sapevo che sarei morta Anzi, zundurata anche più troppo Proviamo con lo spadino del Del cavolo qua Ma questo invece Proviamo con questo Ok che non si può Ok Via Vabbè, sì, certo Come ammazzarsi da sola In cinque mosse Anzi, in una mosse sola Già Qui Sì Chi via 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 da qui via 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 Attenzione Bene, benissimo Mamma mia Sta qua, mi fa paura Piazza di stronza Sì Ok, fase 2 E questa impazzisce nella fase 2 Via, 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 via Scappa, scappa Via, 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 via No, eh, no, eh Questa c'ha una gittata Questa c'è un'arco Questa c'è un'arco Questa c'è un'arco C'è un'arco C'è un'arco C'è un'arco Questa c'è un'arco Via Via Sta pericolosissima Quando c'è così Bene Sono morta Ufficialmente Via 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 Adesso sono morto Quasi quasi ci speravo Perché stavo diventando tanto bravo Tanto bravo mica tanto Allora proviamo allora a sto punto col fuoco Perché Non è l'unica Scusate Un ruttino singhiozzino Mi è venuto Allora sì per forza Ho il sanguinamento Ma non credo che abbia a che farci Non credo che sia Debole al sanguinamento Andiamo boys In girls Ovviamente siete 90% Ragazzi E restante Ragazze Ma non so neanche Quante ce ne sono di ragazze Che Seguono i miei gameplay E vabbè ma mi fai andare Cioè ma io non so Guardate questi Porca barca Via Sì 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 Lo sapevo E meno male che non mi fu fuori subito Perché Mi lasci il tempo di Rigenerarmi No eh Attiva Non si fa Ok Ok E meno male che Via 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 Vabbè ma Ma Davvero Boh Ok Raga Sono scoraggiata Ma so che ce la posso fare Confido In questo Vabbè certo Perché Giustamente Iniziamo benissimo La boss fight Vai così Ok E' certo Tapevo io Ok 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 Io Ok 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 vi prometto che sarà un episodio bello sostanzioso ciao raga fate i bravi mi raccomando mi raccomando lasciate sempre un commentino e un like cioè sempre se vi va però è importante perché i feedback mi aiutano a capire cosa cosa vi piace e cosa no ciao ciao